Gli autori del Grande Fratello Vip 6 decidono di riservare ai concorrenti una punizione. Questa volta, i viponi vengono puniti a causa dei problemi legati alla pulizia della casa di Cinecittà, non tutti si metterebbero a disposizione per pulire e tenere le stanze ordinate. A lanciare l'allarme ci aveva pensato Manila Nazzaro, la quale aveva fatto notare come Lulu Selassie spesso si rifiutasse di collaborare. La showgirl, che ci tiene molto alle pulizie, si è anche scontrata con la principessa. Questa non è stata l'unica discussione di queste settimane riguardante l'ordine della casa. Poco tempo fa, durante uno scontro con Valeria Marini, Sofico Degoni aveva svelato fatti davvero sconvolgenti sul bagno. Ora gli autori decidono di intervenire dopo la puntata di ieri sera. Ebbene, i viponi non avranno i loro 380 euro a disposizione per la spesa. Manila e Soli Sorge hanno letto ai loro coinquilini il comunicato, informandoli che potranno spendere 266 euro. Dunque, si parla di 114 euro in meno rispetto al budget previsto. La Nazaro è apparsa abbastanza infastidita dalla cosa, visto che più volte aveva ripreso i suoi coinquilini. Si tratta di un fattore che i Geffini non dovrebbero assolutamente sottovalutare. Invece, confrontandosi con Miriana Trevisan, Jessica Selassie si è detta certa del fatto che ai telespettatori non frega dell'ambiente. Il pubblico sta commentando il suo pensiero, dicendosi contrario. È dalla sua parte su un'altra questione, quella riguardante Katia Ricciarelli e Manila.